il benchmark memory foam system di avid carp definisce un nuovo standard di comfort è dotato di un doppio strato formato da sacco a pelo quattro stagioni che può essere completamente rimosso dal lettino se necessario durante i mesi più caldi il pescatore può dormire sotto la coperta superiore più sottile mentre in inverno è meglio dormire sotto lo strato interno che offre più calore e maggior protezione dalle intemperie il benchmark memory foam system è dotato del sistema completo di supporto per le zone lombari posizionato appunto sotto materasso in memory foam nessun altro materasso sul mercato si avvicina al memory foam in termini di comfort e qualità entrambi benchmark e benchmark x memory foam system dispongono i due cerniere in acciaio rinforzato che consentono di chiudere il lettino senza dover rimuovere il sacco a pelo queste cerniere offrono inoltre una superficie totalmente piatta per migliorarne il trasporto una robusta cinghia di sicurezza viene utilizzata per assicurare il lettino in posizione di chiusura e tre gambe strategicamente posizionate offrono ottimi punti d'appoggio garantendo una distribuzione uniforme del peso e un perfetto riposo notturno con giustizio della valenza la valenza la valenza la valenza la valenza la valenza il maschio il aspetto il maschio Benchmark memory foam system, the Avid card Listen to... Grazie a tutti.